Conferenza stampa di fine anno per il sindaco di Montevarchi, Francesco Maria Grasso. Un riassunto a 360 gradi di quanto svolto e di quanto ancora in cantiere per gli ultimi mesi prossimi di mandato, con i primi segnali di ripresa che si intravedono in ambito economico ed una forte possibilità di sviluppo occupazionale, grazie alle novità che riguardano Prada. Le nostre imprese hanno mantenuto i mercati, anzi stanno implementando. Io credo si incomincia a rivedere un po' di nuova attività e di luce all'interno del nostro Valdarno, ma soprattutto ci sarà il grande investimento di Prada che a giorni parte con i nuovi stabilimenti davanti all'Evanella, in poi parole davanti al comprensorio e allo spaccio. E poi avremo il pastificio, quindi il pastificio stanno presentando i disegni, le documentazioni per avere anche le autorizzazioni, i permessi. Io credo quindi che il 2016 sarà un grande anno di grandi investimenti. La speranza è quindi che presto potremo parlare di questioni economiche lasciate alle spalle. Io spero che il passaggio finale sarà quello che ormai abbandoneremo la crisi e speriamo che il lavoro ritorni e che sia alle nostre spalle il ricordo della disoccupazione che in questi anni è stato presente nelle nostre famiglie.